Bad Company, di cosa si tratta? Si tratta di un'azienda che si costituisce con l'obiettivo di trasferire su essa tutto quello che una grande azienda, una buona azienda può in termini di passività, debiti e altro. E quindi significa anche non avere progettualità, non salvaguardare assolutamente l'occupazione e creare un bacino di precarietà. Finendo all'interno di questa Bad Company, un dipendente cosa rischia? Allora, concretamente rischia il lavoro sicuramente perché non ci sono le condizioni dal nostro punto di vista né economiche né finanziarie, come dicevo prima, di poter stare sul mercato. Il mercato sta evolvendo in maniera assolutamente repentiva e tra l'altro con un'aggressività notevole tra i vari competitors e quindi se non c'è una solidità finanziaria e economica alle spalle è chiaro che questo mette in rischio chiaramente le commesse, mette in rischio il lavoro. In base alla vostra esperienza, non solo in Sicilia e non solo per Almaviva, questa tendenza a utilizzare le Bad Company, quanto si sta diffondendo? Su Parma, te l'abbiamo visto solo all'Italia, voglio dire, questo è lo scopo. Lo scopo è quello di trasferire su un'altra azienda quelle che possono essere le passività, i debiti, però il collegamento con la madre, con l'azienda che poi alla fine ha il controllo delle attività.